Salvatore Monte possiamo dire oggi è day after tomorrow dopo le polemiche di ieri per la vicenda del teatro possiamo sintetizzarla dicendo che la sindaca dice che non era sua competenza, insomma non era competenza del comune quindi diciamo la vicenda è chiusa. In realtà lei non si arrende anche da operatore teatrale su questa cosa perché ha fatto notare che c'erano tanti altri spazi che potevano essere valorizzati con quel bando. Credo che la faccenda non si possa chiudere con un semplice non si poteva fare basta per il semplice fatto che la mole economica che c'era in ballo era talmente grande e ampia che chiaramente oggi così come ieri ci si resta male. Il fatto che una città che ha una struttura per la quale è vero sono destinati due finanziamenti per il completamento del palco per l'ascensore, per gli impianti, tra le altre cose finanziamenti che risalgono a una concertazione fatta dal sottoscritto con la regione quindi nulla di nuovo sotto il sole rispetto ai nuovi arrivati dico si resta a bocca aperta perché io da amministratore che mi rendo conto di un'opportunità di questo genere se veramente con gli uffici, cosa che non so perché non sono a conoscenza, mi rendo conto che non posso partecipare prendo la macchina, vado a Palermo e cerco di trovare una soluzione anche perché il bene vero è della regione questo è innegabile però c'è una convenzione attiva col comune che ne permette anche la gestione quindi fondamentalmente la gestione in questo momento è del comune e voi vi chiedete anche come è stato possibile che la regione abbia finanziato prima 100.000 poi 150.000 euro che credo non siano andati in porto che chiaramente di queste cose non abbiamo più notizia e li avrebbe trasferiti al comune non vedete che c'è una dissonanza di qualcosa che non funziona se il bene è totalmente regionale perché questi soldi per la stagione teatrale sarebbero stati dati al comune e non gestiti direttamente dalla regione quindi c'è qualcosa che non funziona io non nascondo che sono in contatto con il dirigente dell'assessorato, col dottor Alessandro per capire realmente quello che si poteva o non poteva fare ma anche per capire in futuro se si può fare qualcosa perché ci potrebbero essere le economie capire se si può trovare un'ulteriore intesa perché siamo completamente fermi Lei ha parlato di una mole di finanziamenti ed effettivamente è così perché quello che ha voluto fare Nello Musumeci con questi finanziamenti a tutti i teatri siciliani è anche una questione di principio ne ha fatto Nello Musumeci dicendo che con la cultura si può mangiare anche in Sicilia ma la sindaca l'ha definito nel suo post su Facebook si leggeva operazioni sporadiche di macchilage cioè insomma i finanziamenti che arriveranno a questi teatri secondo lei sono poca cosa rispetto invece al finanziamento principale di cui lei ha parlato che ha detto fa parte anche di una vostra iniziativa del mandato di Paola che cosa ne pensa del fatto che la sindaca dica operazioni sporadiche di macchilage per finanziamenti ai teatri? Mi stranizza che il primo cittadino faccia un'osservazione del genere perché parlare di operazioni di macchilage con oltre 300-400 mila euro che sarebbero sicuramente arrivati a Sciacca perché io faccio il confronto con gli amici di Montevago un'arena all'esterno riesce ad avere un finanziamento di 250 mila euro il teatro Samonà probabilmente ne avrebbe avuti 500 mila e avremmo fatto e sfatto di tutto e di più probabilmente anche completato tecnicamente il palcoscenico dopo l'ulteriore finanziamento quindi mi sembra una battuta poco felice anche perché un'amministrazione regionale non sto qui a difenderla perché me ne frega poco e niente che comunque investe 39 milioni di euro per i teatri della Sicilia è un gran segnale, cosa che non si vedeva da tempo Lei ha fatto anche un elenco di tanti altri spazi che in questo momento in città non si può organizzare quasi nulla se non qualche sporadica presentazione di libri che il comune si appresta, devo dire, con molta solersi a fare questi spazi lei li ha individuati? Ha fatto un elenco, sono circa 5-6 a mio avviso se ne potevano trovare anche altri se si approfondisce questi secondo lei era un compito del comune quello di andare comunque a sollecitare gli enti di competenza perché non sono spazi comunali però per dire che potevano partecipare Il comune ovviamente non è proprietario di questi spazi che io ho elencato tranne di qualcuno, questo lo devo anche ammettere perché io ho citato più che altro le sali degli oratori perché tra le altre cose se vi andate a leggere la graduatoria con i vari finanziamenti anche l'oratorio di Santa Teresa del Mare ha avuto un finanziamento e siccome Sciacca ha una serie di parrocchie con delle sale teatro anche molto gradevoli parlo del Giglio, parlo del Carmine, parlo del Sacro Cuore io da amministratore che sono a conoscenza che ho il compito anche un po' di divulgare le notizie che arrivano all'esterno avrei contattato i referenti in questo caso anche la Curia i sacerdoti stessi e avrei detto cercate di partecipare al bando perché è un'occasione poi ci sono anche altre zone della nostra città parlo della cavia di Contrada Ferraro che potrebbe essere una zona destinata agli spettacoli estivi che andava potenziata poteva essere comunque curata in maniera diversa così come la concessa cavia delle terme già si parlava di concessione a gennaio il bando è stato prorogato a giugno quindi si poteva tranquillamente visto che quella è concessa dire partecipiamo con la cavia delle terme quindi l'operazione fondamentalmente in sé secondo me si poteva fare poi parliamoci chiaro quando si amministra ci sono 500.000 pensieri o me ne rendo conto però bisogna anche inventarsi bisogna fare anche amministrazione creativa se ti rendi conto che davanti a te è un muro devi cercare di pigliarlo a picconate e raggiungere l'obiettivo cioè vai a Palermo e discuti senza fare demagogia quanta amarezza c'è nel costatare che per vedere uno spettacolo teatrale quest'inverno bisognerà andare a Ribero a Sambuca con rispetto parlando assoluto per chi riesce a fargli gli spettacoli teatrali l'amarezza è totale se voi pensate che ancora oggi noi dobbiamo rappresentare un nostro spettacolo un mio spettacolo a Sciacca e saremo con uno spettacolo nuovo in scena sempre a Sambuca vi rendete conto della tristezza che c'è io voglio fare soltanto un'osservazione che come ho detto ieri in un'altra emittente televisiva faccio da cittadino la città non ha più uno spazio aperto al pubblico è diventato molto difficoltoso fare e questa situazione di petto non la sta prendendo nessuno questo cosa sta generando? che quel pubblico che abbiamo coltivato tutti e quando dico tutti parlo anche delle persone che di teatro ne sanno più di me che lo fanno da 50 anni da 40 anni quel pubblico lo perdiamo e se ne va a Palermo giustamente va a Ribera va a Calamonaci va a Sambuca che cosa ne vogliamo fare di questa città? qual è il nostro futuro? perché noi ci lamentiamo che i ragazzi vanno via vanno a Castelvetrano vanno a Marsala a Serinunte ma probabilmente fanno anche bene perché qui non c'è nulla da fare adesso pensiamo un po' ai grandi chi vuole vedere il teatro deve andare per forza fuori e quindi alla fine che ci stiamo a fare qua? grazie a tutti